La maggioranza 269, hanno votato sì 383, hanno votato no 154, la Camera approva. Si intendono respinte tutte le proposte emendative presentate. Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Tofalo numero 54 è stato ritirato dal presentatore. Ha chiesto di intervenire per illustrare l'ordine del giorno numero 39. Il deputato taglia la tela, ne ha facoltà. Il deputato taglia la tela, non c'è. Si intende che abbia rinunciato. Se nessun altro chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito...